Ciao, è cominciato il casting per la seconda edizione di Bartendency. Sei un esperto di mixologia? La tua ha un'eleganza innata, ti va di sfidare i migliori bartender d'Italia? Allora, vai sul sito Mondofox e iscriviti al casting perché il prossimo Molinari Ambassador potresti essere tu. A proposito, ti giudico io.